Vi voglio presentare il corso che organizzerò a Trento presso l'ospedale San Camillo il 6 di dicembre 2016 che ha come obiettivo l'approccio critico alla patologia di parete attraverso l'esecuzione di interventi chirurgici e brevissime relazioni che metteranno in evidenza il razionale della tailored surgery. L'incontro è promosso e patrocinato dall'Italian Society of Ernia e Addominal Wall Surgery e si articolerà in una giornata ed è diretto a specialisti della patologia erniaria. Il trattamento della patologia di parete rappresenta tutt'oggi uno dei campi di maggior interesse per il chirurgo generale che attraverso nuove tecnologie e materiali riesce a garantire un approccio cucito sul paziente. Vi aspetto a Trento.